Luciano eccoci qui, su questo divanetto io ho incontrato molte persone che mi hanno detto che hanno avuto questa passione per la musica fin da bambini, mentre tu hai iniziato un po' più tardi e per sbaglio, in che senso? Eh sì, regalarono una chitarra da poco a mio fratello che la teneva lì di lato e io un bel giorno, l'ho presa e ho cominciato a suonarla, a sinperlarla e così ho cominciato a suonare verso le scuole medi più o meno. E poi hai iniziato anche a cantare a Bologna, nelle osterie, cosa facevi? Beh ho cominciato a cantare nelle osterie a Bologna perché l'ambiente era molto ricco di spunti, di iniziative, quindi ho cantato lì e lì tra l'altro ho anche conosciuto il mio primo amore perché in quell'ambiente lì avevo vent'anni e poi dopo quando è finito questo amore lei si è tornata negli Stati Uniti e la musica è rimasta la compagna proprio per tutta la vita. Anche la medicina per il cuore? Assolutamente, assolutamente, la musica è sempre una cura. Va bene, allora il palco di voi signor è tuo, prego. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ma ce l'hai con me? Ma va? Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Ce l'ho con te. Blocca mi come quando o dove vuoi, bloccalo, non è facile per mai. Tu lo puoi bloccare perché non l'hai usato il blocco te. Mai. Neanch'io non l'ho usato. Eh, allora, Orietta, facciamo la sorellanza. Tutti contro di me. Diamoci una mano, noi donne che siamo forti quando siamo insieme. Sta arrivando, sta arrivando, ragazzi. Grazie. Buona giornata. Grazie. Gigi Blocca Loredana Va bene, andiamo Cos' I'm easy, I'm easy like some more, I wanna be free to know the things I'll do all right I wanna be free to know the things I'm easy, I'm easy like Sunday morning Cos' I'm easy, I'm easy like something more, I wanna be free to know the things I'll do all right Vieni qua, vieni qua se c'hai coraggio, vieni qua se hai coraggio, come ti chiami? Mi chiamo Luciano Genovesi e vengo da Polonia Scusa un attimo Luciano, c'è un attimo una questione Ok, perché è stata bloccata Loredana È stata bloccata Loredana? Sì sì Perché Gigi vuole sempre prendere tutto Perché io ti volevo subito, io mi sono girata per prima E lui mi ha bloccato, scorretto Infatti io non mi sono girata perché per me eri molto adatta a Loredana nella sua squadra Brava, Orietta, andiamo Quindi non mi sono girata per quello, ma però mi hai emozionato Perché pensavo che Loredana fosse più adatta per farti scuola Grazie Ma che fai tu nella vita? Allora io adesso insegno inglese ai bambini Ah, ecco perché hai cantato in inglese Sì, insegno ai bambini, sì Perché c'è una storia, la mia famiglia è emigrata negli Stati Uniti Ah, ecco Nella Sicilia, quando ero piccolo, nella East Coast, Connecticut Luciano, ciao Ciao Allora, appena hai cantato mi è venuto un brivido lungo tutta la schiena, credimi C'era uno spiffero d'aria che veniva dentro Sì Infatti mi ha bloccato subito No, no, no E non era aria condizionata, era la tua voce Grazie, grazie E quindi siccome Loredana è una stratega Io adesso ho voluto ricambiare il favore perché non voglio perderti Ed è per questo che mi sono girato e mi sono giocato l'unico blocco di tutte le puntate Quindi una sola volta si può fare e me lo sono giocato per te Mi ha fregato Sono onorato Quindi mi piacerebbe coltivare questa amicizia, questa passione Averti nel mio team per fare un percorso insieme e per stare al tuo servizio Bellissimo Grazie Ok, speak with me, my friend Ok Ok, you stay in east coast of America We are here in New York Nel Connecticut Nel Connecticut In New York No, Connecticut 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nel Connecticut Allora Allora Senti cosa dice, senti cosa dice Tutti contro Senti Ascolta il popolo sovrano Tutti contro Io avevo già nella mente una persona, avrei scelto Loredana ma... Ecco, vedi No, adesso mi fai piangere tanto Quindi Perché A questo punto tra Gigi e Clementino Vado per la East Coast Quindi chi scegli? Sceglo Clementino Bravo